Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org È una lettera aperta, ma non firmata, quella con cui diversi dipendenti della Disney hanno accusato l'azienda di avere assunto e fatto propria una politica progressista che avrebbe di fatto imposto all'interno un ambiente di paura per quanti non vi si adeguino. La singolare denuncia ripresa dall'agenzia infocattolica non nasconde le difficoltà e l'inquietudine serpeggianti tra il personale. La Walt Disney Company è diventata un posto di lavoro sempre più scomodo per quelli di noi le cui opinioni politiche e religiose non siano esplicitamente progressiste, si legge. Guardiamo in silenzio mentre le nostre convinzioni vengono attaccate dal nostro stesso datore di lavoro e spesso vediamo coloro che condividono le nostre opinioni bollati come cattivi dal nostro management. Recentemente l'azienda, assieme ai suoi principali marchi, quali ESPN e National Geographic, aveva espresso solidarietà al mondo LGBTQIA+, capo il varo della legge statale che vieta agli insegnanti di affrontare in classe questioni quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere prima della terza elementare. Secondo i dirigenti della Disney, tale legge violerebbe i diritti umani fondamentali e l'azienda, secondo loro, avrebbe dovuto fare di più per evitarlo. La lettera aperta dei dipendenti invece specifica come quelli tra loro che vogliono che la Walt Disney Company faccia dichiarazioni politiche di sinistra vengono incoraggiati, mentre quelli che vogliono che l'azienda rimanga neutrale possono dirlo solo sotto voce per paura di rappresaglie professionali. Questa politicizzazione della nostra cultura aziendale sta danneggiando il morale e fa percepire a molti di noi che i nostri giorni nella Walt Disney Company potrebbero essere contati. Un clima molto pesante quello instaurato internamente in base a quanto par di capire dalle parole degli autori di questa missiva che hanno peraltro chiesto agli altri dipendenti, agli azionisti e ai clienti della Disney di dare loro solidarietà supportando la loro richiesta di neutralità probabilmente gradita anche alla stragrande maggioranza del pubblico che un'azienda come questa chiede di curare l'intrattenimento, non di far politica. Intanto l'Arizona e l'Oklahoma hanno approvato leggi denominate Save Women Sports Act che impediscono a quanti si proclamino transgender di iscriversi alle gare sportive per donne adeguandosi a quanto già legiferato in merito in Texas, Alabama, Iowa e Mississippi. In particolare l'Arizona ha approvato anche altre due normative una che vieta per i minori la chirurgia irata a un riorientamento di genere l'altra che vieta in tutto lo Stato gli aborti dopo la quindicesima settimana di gestazione con multe per i trasgressori fino a 10.000 dollari nonché con la revoca o almeno con la sospensione della loro licenza. Dall'altra parte del mondo intanto, in Senegal, ai primi di gennaio l'Assemblea Nazionale ha respinto un progetto di legge finalizzato a modificare il paragrafo 3 dell'articolo 319 del Codice Penale per incrementare i provvedimenti già previsti contro qualsiasi atto definibile contro natura dall'omosessualità alla transessualità, dalla necrofilia alla zoerastia tutti posti sullo stesso piano. La proposta era quella di portare da 5 a 10 anni di reclusione il massimo della pena nonché di aumentare la relativa sanzione da 2.287 a circa 7.600 euro. Secondo Emeru Geng, presidente della maggioranza parlamentare Benobo Akiakar si tratterebbe di un falso dibattito dal sapore elettoralistico secondo invece gli 11 deputati firmatari della proposta per la maggior parte dell'opposizione guidati da Mamadou Lamidialou l'appello avrebbe fatto eco alle legittime preoccupazioni della stragrande maggioranza dei cittadini di questo paese nonché di molte autorità religiose. Si prevede che la decisione dell'Assemblea Nazionale non blocchi i promotori dell'iniziativa pronti a ripresentare la proposta o un'altra analoga in aula all'attenzione di tutti i deputati. Oggi c'è Radio Roma Libera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito